Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it questo è il corso introduttivo ad Adobe After Effects parliamo oggi dei livelli 3D, vedremo come creare la profondità nei nostri progetti, nelle nostre animazioni esplorando brevemente e in maniera introduttiva le funzionalità associate appunto ai livelli 3D e alle videocamere di questo parleremo nei prossimi 3 video tutorial, vi ricordo prima di tutto, prima di cominciare il sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete gli articoli di queste lezioni, troverete anche il corso introduttivo a Premiere Pro troverete i mini tutorial, troverete notizie dal mondo della tecnologia e della società insomma fate una capatina per avere maggiori informazioni, iscrivetevi a questo canale YouTube trovate qui le playlist con questo corso di After Effects così come il corso di Premiere Pro e se volete restare aggiornati cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi venite e mettete un like per mantenervi aggiornati e tenervi in contatto con questo progetto bene, parliamo dei livelli 3D in After Effects, cosa sono i livelli 3D? bene, vi do una dimostrazione di quello che possiamo fare con i livelli 3D possiamo ruotare attorno agli oggetti, possiamo creare un senso maggiore di profondità ora, qui stiamo vedendo due livelli 3D che però uno potrebbe obiettare ma non sono 3D, sono due fogli di carta praticamente sì, è vero, ci sono tecniche ovviamente in After Effects anche per estrudere quindi per dare profondità reale ai livelli 3D ma quello di cui ci occupiamo in questa lezione introduttiva è semplicemente il concetto di 3D applicato ai livelli After Effects vedremo come poterci muovere attorno agli oggetti non tanto come modificarli per renderli effettivamente 3D quindi per farlo dobbiamo abilitare il livello e renderlo 3D vediamo come fare ricominciando praticamente da capo cancelliamo tutto e creo un livello testo così come ho fatto nell'esempio che avete appena visto quindi livello testo e scrivo ad esempio text creo un altro livello o meglio importo un'immagine eccoci qui, la scalo, la rendo un pochettino più piccolina sposto questi due livelli sto utilizzando ovviamente i tasti di scelta rapida che abbiamo visto nelle lezioni precedenti quindi io vi invito a fare una capatina anche alle altre lezioni del corso per capire quali tasti sto utilizzando ora non li rispiego per non perdere ulteriore tempo eccoci qui, ok? ho due livelli che sono ovviamente 2D da cosa me ne accorgo che sono 2D? bene, se io vado ad analizzare per esempio la proprietà posizione mi accorgo che posso muovere il livello solo in orizzontale o in verticale ok? proviamo orizzontale giusto ok, verticale giusto ma non posso muovere questo livello per esempio per farlo venire in avanti o per farlo andare indietro in altre parole sto muovendo questo livello solo in due dimensioni stessa cosa per quanto riguarda l'immagine che ho importato posso muoverla in orizzontale posso muoverla in verticale ma per esempio posso ruotarla attorno al suo pivot ma solo in una direzione ok? non posso far ruotare questo livello per esempio in avanti ok? stessa cosa per la scala io posso ovviamente aumentare l'asse orizzontale di questo oggetto posso aumentare l'asse verticale ma non posso fare nulla per quanto riguarda la profondità per trasformare un oggetto da 2D come sono di default in After Effects in 3D dobbiamo utilizzare un bottoncino che trovate a fianco al nome del livello stesso vedete abbiamo delle colonnine queste colonnine sono associate a delle funzioni ben precise che oggi non esamineremo nel loro insieme ma ci concentreremo sull'ultimo sull'ultima casellina sull'ultimo bottoncino sotto a questo simbolino che è un cubo ok? se ci pensate bene un rettangolo in 3D diventa un cubo comunque un poligono ok? clicchiamo su questo rettangolino su questo bottoncino e come potete vedere come prima cosa appena abilitiamo il livello 3D la scala che aveva due posizioni orizzontale e verticale per magia ha ora la possibilità di lavorare in tre dimensioni quindi orizzontale e verticale e appunto come si diceva prima nella profondità vediamolo nella posizione che è forse ancora più chiaro di default abbiamo solo la possibilità di muovere l'oggetto in orizzontale o in verticale abilitando il livello e rendendolo 3D possiamo muoverci in tre assi si dice utilizzando tre assi l'asse orizzontale verticale e ovviamente la profondità ok? vediamolo concretamente cosa vuol dire sto lavorando sul logo dei mini tutorial possiamo muovere questo oggetto in orizzontale e fin qui siamo ok allineati possiamo muoverlo in verticale e anche qui è tutto ok possiamo muovere questo oggetto andando indietro o portandolo in avanti ok? questo utilizzando ovviamente come si diceva le tre dimensioni a cui possiamo accedere ovviamente noi potremmo anche ruotare questo oggetto adesso non più soltanto diciamo intorno a se stesso come abbiamo fatto poc'anzi ma possiamo anche ruotare questo oggetto come potete vedere sull'asse verticale e anche sull'asse orizzontale creando ancora di più un senso di prospettiva maggiore faccio un esempio io vado a scalare questo oggetto ricongiungo i livelli lo vado a scalare questo oggetto lo ruoto un pochettino così e posso simulare per esempio un oggetto che poggi su un piano orizzontale ora qui si vede poco però immaginate che questo sia un piano orizzontale come fosse un pavimento ok? e noi semplicemente simuliamo magari che questo oggetto sia il nostro terreno ok? su cui è scritto mini tutorial ovviamente i vari livelli tra di loro possono essere coperti mi spiego abilito anche il 3D sull'oggetto testo se io vado a sovrapporre i due oggetti quindi torno nella posizione su entrambi ok? li sovrappongo come potete vedere abbiamo i mini tutorial che vanno sopra alla scritta text ma se io utilizzo l'asse della profondità vedete posso andare avanti o indietro adesso i mini tutorial sono dietro alla scritta text e così come posso portarli posso portare la scritta mini tutorial avanti ok? è difficile lavorare guardando le cose sempre da un unico punto di vista questo in generale nella vita bisogna cambiare punto di vista spesso però in After Effects forse questa cosa è ancora più reale ancora più concreta potremmo per esempio avere la necessità di guardare gli oggetti da altre angolazioni dall'alto dal lato dal basso da dietro e questo vedremo nella prossima lezione di questo corso introduttivo ad After Effects nel prossimo mini tutorial vedremo come modificare il nostro punto di vista per osservare un oggetto un livello da altre angolazioni vi ricordo www.fabbiambrosi.it lì c'è l'articolo di questo di questo mini tutorial con spiegato per iscritto quello di cui stiamo parlando c'è anche il corso dedicato a Premiere Pro se volete fate una capatina iscrivetevi e mettete un like a questo video se vi è piaciuto ma iscrivetevi a questo canale YouTube cercatevi su Facebook mettete un like anche lì teniamoci in contatto la pagina è Fabio Ambrosi al prossimo mini tutorial vi aspetto